Ma una grande soddisfazione perché questo è un accordo fatto da due gruppi italiani, due importantissimi gruppi italiani che sostanzialmente cercano di raggiungere gli obiettivi europei senza bisogno di partner esteri per cui è un accordo totalmente made in Italy che va verso la mobilità sostenibile, che va verso la compatibilità ambientale e che va verso soprattutto l'Indo. Questa è una grande cosa dal mio punto di vista e per quanto mi riguarda viene fatta all'Odi deve essere un rilancio per il paese ma anche un rilancio per l'Odi.